La società aveva fatto un grande sforzo ed era riuscita a contattare aziende retine che ci avrebbero aiutato notevolmente per un ingaggio che è fuori dalla nostra portata, ma che comunque abbiamo fatto un'offerta seria, affidabile, molto importante, però purtroppo ci sono state altre società, in primis la Casertana, che lo hanno un po' fatto pendere da quella parte, a mio avviso già oggi lui firmerà per la Casertana, però noi abbiamo fatto di tutto anche perché nonostante che non era nei programmi iniziali volevamo un po' accontentare la città. Abbiamo fatto l'offerta, non è arrivato, io gli faccio i migliori auguri, il miglior in bocca al lupo, certo che avrei avuto piacere di farlo venire. Noi proponemmo anche all'allenatore il discorso dell'Agnello, lui mi disse che cercava in ogni caso se doveva arrivare qualcuno che doveva fare veramente la differenza, altrimenti aveva totale fiducia dell'assetto tecnico che gli avevamo messo a disposizione, Floro non è arrivato e quindi noi abbiamo con fiducia dato la possibilità al mister, di sfruttare al meglio il parco calciatori e attaccanti che abbiamo, che chiaramente è appena nuovo, ma sono convinto che ci darà qualche soddisfazione, sempre per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi, quello di una salvezza tranquilla, certo se arrivava Floro poteva spostare gli equilibri, questo è certo. È una rosa ampia ma per scelta anche perché abbiamo acquisito 20 calciatori nuovi di proprietà totale dell'Arezzo, che chiaramente parecchi sono giovani e quindi rappresentano il patrimonio della società che prima non c'era ed è, secondo me, la fondamenta di un progetto, siccome si parla di progetto triennale del primo anno dove dovevamo rifondare una squadra. Noi siamo in contatto giornaliero con i direttori e con i presidenti, quindi ero al corrente di tutto quello che poteva e che sarebbe successo, va bene così, andiamo avanti con quello che abbiamo fatto fino ad oggi, sereni del lavoro che andiamo a fare. Dal punto di vista qualitativo saranno le partite che diranno quanto bravi saremo, però le partite di campionato, perché le amichevoli lasciano sotto tanti punti di vista il tempo che trovano, quindi è difficile fare una valutazione precisa o della forza di un organico, aspettiamo le prime di campionato.